Clima partita, atmosfera che si sta riscaldando, ancora un attimo di pazienza e si parte. Un saluto a tutti gli amici all'ascolto, EA Sports, grande partita con me c'è Lene Adani, EA TV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team. Partita con molti sconti tecnici e tanti duelli di livello, vedremo come andrà a finire. Questo ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi eh. Le premesse per non annoiarci ci sono tutte, ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. Metri per andare sulla fascia, la mette in aria verso i compagni. Opportunità, 1-0, prima gol del match che non si fa attendere. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare il senso della posizione, ma anche la rapidità nell'avventarsi su quel pallone per spedirlo in rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Prova ad andare in progressione. Ramsey. Difende bene il pallone. Avanza a caccia del barco giusto. Contrasto efficace nei 16 metri. Buonazzoli. Abbetri. Deve tuffarsi qui il portiere, intervento non particolarmente difficile. Allora Pier, questa è una parata comoda, ma va pur sempre fatta. Palla messa in mezzo. Spunto che finisce. Pallone buono questo. Entra sull'avversario e recupera palla. C'è campo per la ripartenza. Servito a Caio e Giorgio. Occhio al tocco interessante. Aspetta il momento giusto. Milik. E la mette. Risultato che torna in parità. Vediamo il replay dell'azione di prima. Questo. Un gol di forza. Cercato. Voluto. Aveva fatto il portiere dopo aver eluso l'intervento dei difensori. E ora sì che l'allenatore con i suoi collaboratori può festeggiare il gol che ha riportato il risultato in parità. Hanno pareggiato dunque 1-1. Via. Remo Freuler. Prova ad avanzare. Via con il pallone. Un buon tackle. Recupera palla. Milik. Se non ho capito male c'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. L'arbitro ha concesso il penalty ai padroni di casa. È stato l'errore dagli 11 metri. Ammirato all'incruzione. Possono abbassare il vantaggio. E c'è il gol. È la sua giornata. Non pieta per lui. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà. È tra l'autore del tiro e il portiere. Perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto. Ma il secondo a farsi sopprendere sul proprio palo. Ponteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2-1. Trovi l'è. Torno in possesso di palla. Caio Giorgio. C'è spazio per andare. Questo è il valore giusto. Parata straordinaria. Come un gol. Il pubblico accoglie con una sorta di ovazione questo tiro dalla bandierina. È il primo della partita per loro. Sembra quasi che non se l'aspettassero. Corso verso il centro dell'area. Spazza via il pallone. Si fa spazio. La tiene a caccia di rinforzi. Tiene palla. Vediamo cosa combina. La passa indietro. Aciole da seguire. Dice Dino. Palla in area di rigore. Pallone spazzato via. La gioca indietro. Attenzione. Pericolo. Gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza. Corre il battuto in mezzo. Allontana il pericolo. Possono prendere in contropiede la difesa. Palla che rotola via. Decidono di arretrare il baricentro come se volessero farsi attaccare. Milik. Allora è buono questo. Può andare da lì. E c'è il gol. Allungano. Portandosi a più due. Questa è l'azione del gol. Nei precedenti tentativi la difesa era riuscita a metterci una pezza. Questa volta però si è dovuta arrendere.